Luigi Peracchini, sindaco di La Spezia, abbiamo sentito anche ieri la stessa Premier Meloni quando parlava del PNRR ha detto sappiamo che c'è una criticità sul personale, le assunzioni a termine non aiutano eccetera eccetera. L'inverno demografico di cui parlava la sindaca è ancora più evidente rispetto alla società generale italiana se guardiamo il microcosmo del personale comunale, l'età media è alzata, i giovani non arrivano eccetera eccetera. Voi avete incontrato difficoltà proprio nella gestione poi tecnica tecnologica di questi investimenti nel senso il PNRR ti dà delle risorse ma poi tu le devi gestire e implementare, prego. Sì, il PNRR si infila in una serie di investimenti che erano già in programma perché noi in Liguria abbiamo fatto un progetto con Anci Liguria, con Regione Liguria, Liguria Digitale dove ogni comune dal più piccolo al più grande può usufruire un servizio di cloud in modo che tutti i comuni possano dare servizi digitali. Ecco, è un progetto importante, il PNRR ad esempio per il nostro comune vale circa un milione di euro sull'identità digitale, cioè su tutti quei servizi che devono coniugare dal bambino appena nato al centenario o più e quindi poter accompagnare verso queste novità oltre che proteggere per la sicurezza tutti i dati il futuro. E non solo, per fare questo abbiamo anche sempre grazie ai finanziamenti regionali nuovi progetti che ad esempio uno si chiama maggiornomo di quartiere perché serve proprio per gli anziani ad esempio che non riescono a utilizzare le nuove strumentazioni o le nuove opportunità digitali. Poi c'è un progetto bellissimo che è il fascicolo del cittadino dove con un'app si entra dentro, uno trova tutta la sua documentazione, il suo status, tutto quello che serve, la sua situazione in più su quanto riguarda le multe, le tasse eccetera eccetera. Quindi stiamo lavorando tanto, il PNRR è utile ma abbiamo iniziato molto prima del PNRR perché non possiamo perdere tempo di fronte al futuro che è già oggi. chiarissimo, chiarissimo sindaco.